Il loro non è affatto un semplice amore estivo. Come dimostrano le foto pubblicate sul nuovo numero di chi, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fanno sul serio e, terminato il lungo periodo dorato delle vacanze passate insieme a Ibiza in Grecia, continuano a frequentarsi anche a Milano. I due sono stati paparazzati nella città meneghina mentre camminano abbracciati e si scambiano tenerezze, recandosi al cinema a vedere un film horror. Dopo lo spettacolo, Gilda e Stefano raggiungono alcuni amici per una cena. Anche qui, tra scherzi e giochini, la complicità è evidente. Per la nuova coppia, Galeotte furono le vacanze alle Baleari con una folta compagnia di amici. E lì che è sbocciato l'amore tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Fu il settimanale spì a svelare come il ballerino di amici avesse perso la testa per la bella Bruna. Solo pochi giorni dopo, la conferma arrivò con il primo bacio paparazzato tra De Martino e Gilda. I due si sono recati in seguito in Grecia e da allora non si sono più lasciati. Si tratta della prima relazione ufficiale di Stefano dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez e tanti flirt a lui attribuiti, ma sempre smentiti e non confermati. Anche l'ambrosio, di professione stilista, ha alle spalle una relazione con un personaggio famoso. E' infatti stata fidanzata con Andrea Rosso, figlio del fondatore del marchio diesel Renzo Rosso e fratello di Stefano, compagno di Francesca Achilleni. La coppia risultava legata almeno fino alla primavera 2017. Secondo indiscrezioni di chi, Gilda avrebbe deciso di troncare con lui proprio per via dell'interessamento nei confronti di De Martino. Intanto, sono più che mai civili i rapporti tra De Martino e Belen, tanto che è accertato che i due si incontrino spesso da bravi genitori. Qualche giorno fa, i due hanno accompagnato insieme il figlio Santiago il suo primo giorno d'asilo. Chi se ne frega!